In quel deplorabile stato, ei vuotava ancora, ei cantava, ei discorreva, ei tutto faceva per illudermi, per nascondermi una parte dei suoi mali. Non poteva più digerire né dormire, dimagrava spaventosamente, andava frequentemente in deliquio, e tuttavia in alcuni istanti raccoglieva la sua vitalità e faceva animo a me. Ciò che gli patì per nove lunghi mesi non è descrivibile. Finalmente fu conceduto che si tenesse un consulto. Venne il protomedico, approvò tutto quello che il medico avea tentato, e senza pronunciare le sue opinioni sull'infermità e su ciò che restasse a fare, se ne andò. Un momento appresso, venne il sottintendente, e dice a Maroncelli, il protomedico non si è avventurato di spiegarsi qui, in sua presenza. Temeva che lei non avesse la forza di udirsi annunziare una dura necessità. Io l'ho assicurato che a lei non manca il coraggio. Spero, disse a Maroncelli, di aver dato qualche prova in soffrire senza urli questi strazzi. Mi si proporrebbe mai? Sì, signore, l'amputazione. Se non che il protomedico, vedendo un corpo così emunto, esita a consigliarla. In tanta debolezza. Si sentirà ella capace di sostenere l'amputazione. Vuolella esporsi al pericolo? Di morire? E non morrà in breve, ugualmente, se non si mette termine a questo male? Dunque faremo subito relazione a Vienna ad ogni cosa. È appena venuto il permesso di amputarla. Che? Ci vuole un permesso? Sì, signore. Di lì a otto giorni, l'aspettato consentimento giunse. Il malato fu portato in una stanza più grande. E dimandò che io lo seguissi. Potrei ispirare sotto l'operazione, disse egli. Che io mi trovi, almeno, fra le braccia dell'amico. La mia compagnia gli fu conceduta. L'abbate Urba, nostro confessore, succeduto a Paolovic, venne ad amministrare i sacramenti all'inferizia. Adempiuto questo atto di religione, aspettavamo i chirurghi, che non comparivano. Maroncelli si mise ancora a cantare un inno. I chirurghi vennero, al fine. Erano due. Uno, quello ordinario della casa, cioè il nostro barbiere. Ed egli, quando occorrevano operazioni, aveva il diritto di farle di sua mano. E non voleva concederne l'onore ad altri. L'altro era un giovane chirurgo, allievo della scuola di Vienna, e già godente fama di molta abilità. Questi, mandato dal governatore per assistere all'operazione e dirigerle, avrebbe voluto farla gli stesso, ma gli convenne contentarsi di vegliare all'esecuzione. Il malato fu seduto sulla sponda del letto con le gambe giù. Io lo tenea fra le mie braccia. Al di sopra del ginocchio, dove la coscia comincia ad essere sana, fu stretto un legazzo, segno del giro che doveva fare il coltello. Il vecchio chirurgo tagliò tutto intorno, la profondità di un dito. Poi tirò in su la pelle tagliata e continuò il taglio sui muscoli scorticati. Il sangue fluiva a torrenti dalle arterie, ma queste vennero tosto legate con un filo di seta. Per ultimo si segò l'osso. Baroncelli non mise un grido, quando vide che gli portavano via la gamba tagliata. Dede un'occhiata di compassione. Poi, voltandosi al chirurgo operatore, gli disse «Ella m'ha liberato di un nemico e non ho modo di remunerarla. V'era in un bicchiere sopra la finestra una rosa. Ti prego di portarmi quella rosa», mi disse. Gliela portai. Ed è l'offersa il vecchio chirurgo dicendogli «Non ho altro da presentarle in testimonianza della mia gratitudine». Quegli prese la rosa e pianse. I chirurghi avevano creduto che l'infermeria di Spilger provvedesse tutto all'occorrente, eccetto i ferri che si portarono. Ma fatta l'amputazione, si accorsero che mancavano diverse cose necessarie. Tela incerata, ghiaccio, vende, eccetera. Il misero mutilato dovette aspettare due ore che tutto questo fosse portato dalla città. Finalmente potè stendersi sul letto e il ghiaccio gli fu posto sul tronco. Il di seguente liberarono il tronco dai grumi di sangue formati, vissi, lo lavarono, tirarono giù la pelle e fasciarono. Per parecchi giorni non si diede al malato se non qualche mezza chicchera di brodo con un torlo d'uovo sbattuto. E quando fu passato il pericolo della febbre vulneraria cominciarono gradatamente a ristorarlo con cibo più nutritivo. L'imperatore aveva ordinato che finché le forze fossero ristabilite gli si desse buon cibo della cucina del soprintendente. La guarigione si operò in 40 giorni dopo i quali fumo ricondotti nel nostro carcere. Questo, peraltro, ci venne ampliato facendo cioè un'apertura al muro e unendo la nostra antica Tanai a quella già abitata da Oroboni e da Villa. Io trasportai il mio letto al luogo medesimo dove era stato quello di Oroboni dove gli era morto. Questa identità di luogo mi era cara. Pareami da essermi avvicinato a lui. Sognava spesso di lui e pareami che il suo spirito veramente mi invitasse e mi la serenasse con celesti consolazioni. Lo spettacolo orribile di tanti tormenti sofferti da maroncelli e prima del taglio della gamba e durante quell'operazione e da poi mi fortificò l'animo. Il Dio, che mi aveva dato sufficiente salute nel tempo della malattia di quello perché le mie cure gli erano necessarie me la tolse allorché egli potereggersi sulle grucce. Ebbi parecchi tumori glandulari dolorosissimi. Ne risanai e a questi successero affanni di petto già provati altre volte ma ora più soffocanti che mai vertigini e dissenterie spasmodiche. È venuta la mia volta diceva tra me sarò io meno paziente del mio compagno? Mi applicai quindi a imitare quant'io sapea la sua virtù. Non v'è dubbio che ogni condizione umana ha i suoi doveri. Quelli di un infermo sono la pazienza il coraggio e tutti gli sforzi per non essere inamabile a coloro che gli sono vicini. Maroncelli con le sue povere grucce non avea più l'agilità d'altre volte e rincresceagli temendo di servirmi meno bene. Lei temeva inoltre che per risparmiargli i movimenti e la fatica io non mi prevalessi dei suoi servigi quanto mi abbisognava. E questo veramente talora accadeva ma io procacciava che non se ne accorgesse quantunque gli avesse ripigliato forza. Non era però senza incomodi. E pativa come tutti gli amputati sensazioni dolorose dei nervi così che la parte tagliata vivesse ancora. Gli doleano il piede la gamba e il ginocchio che il più non avea. Aggiunseva sì che l'osso era stato mal segato e sporgeva dalle nuove carni e faceva frequenti piaghe. Soltanto dopo circa un anno il tronco fu abbastanza indurito e più non saperse.